bentornati su my football jersey oggi vi mostro la prima maglia del celsi per la stagione in corso la 23 24 in edizione fan ciao ho aspettato tanto a prendere la maglia perché aspettavo che avesse il main sponsor però siccome ancora non c'era ho deciso comunque di acquistarla il costo lo vedete qui sopra molto basso una maglia fatta veramente molto bene con dei buonissimi tempi di spedizione se volete qualche informazione in più trovate qui sotto in descrizione tutti i riferimenti andate a vedere perché c'è anche un link per i nuovi iscritti per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo diventa ancora più basso prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan e e e e